Continua il nostro viaggio nelle scuole con l'Istituto Nautico Cristoforo Colombo di Torre del Greco. Un ritorno fra i banchi difficile anche per gli studenti della storica scuola torrese. I ragazzi hanno raccontato alle nostre telecamere il loro rapporto con le nuove regole anticontaggio. Come è andato questo ritorno a scuola atipico? Il rientro in classe è stato sicuramente emozionante. Ci tengo a ringraziare la dirigente scolastica Lucia Cimmino e tutto il corpo docente che hanno lavorato duramente al fine di garantire un rientro in classe in piena sicurezza adottando tutte le misure di prevenzione come ad esempio la misurazione della temperatura, il distanziamento e ingresse e uccide scaglionate. Le lezioni si stanno svolgendo tre giorni in presenza e tre giorni a casa e ci alterniamo con il biegno che viene i tre giorni che noi restiamo a casa. La nostra classe è una classe molto numerosa di 24 persone quindi è stata suddivisa in due classi di 12 persone. Abbiamo lo stesso orario però con professori differenti. Vi crea problemi questo ingresso scaglionato? È una scuola dove molti studenti sono pendolari quindi sono soggetti a prendere treno e altri mezzi pubblici per venire a scuola quindi sicuramente molto rischioso per cui stare a contatto con molte persone e indossare la mascherina è fondamentale. Io penso che la scuola ha risposto molto bene alle nostre esigenze dell'entrata scaglionata per salvaguardare la nostra salute e quindi si è disposta di due entrate e appunto di stacchi orari appunto di 5-10 minuti. È difficile per te e per i tuoi compagni inseguire le nuove regole? Non è difficile perché ognuno tiene la salvaguardia della propria salute e soprattutto tiene i propri familiari quindi penso che non sia difficile mantenere queste piccole regole. La professoressa Anna Auricchio, responsabile di sede, ha parlato dell'impegno dell'istituto nel rispettare e far rispettare a ragazze e famiglie la nuova normativa. Come si è adattato l'istituto alle misure anti-covid? L'istituto ha lavorato grazie alla dirigente, ai docenti e ai collaboratori per tutta l'estate per poter organizzare logisticamente l'accoglienza dei ragazzi. La segnaletica è stata fondamentale, il distanziamento dei banchi nelle aule rispettando le norme vigenti e poi naturalmente abbiamo attuato un piano di accoglienza e di attività didattica, di organizzazione didattica adeguata. C'è da dire innanzitutto che rispettando le problematiche, tenendo conto delle problematiche legate ai trasporti, ci sono ingressi scaglionati per il biegno e per il triennio, quindi il biegno entra alle 8, il triennio alle 8.55. Questo naturalmente alleggerisce anche i trasporti stessi. Come si stanno comportando i ragazzi nel rispetto delle norme? I ragazzi stanno collaborando egregiamente a tutte le norme stabilite. C'è da dire che sono pienamente consapevoli di appartenere a un istituto in cui la disciplina è fondamentale. E tenendo conto di questo e anche grazie all'aiuto delle famiglie che hanno sicuramente preparato i loro figli all'ingresso a scuola, sono pienamente disponibili a seguire tutte le regole che stiamo impartendo già dal primo giorno. Il primo giorno, proprio nell'accoglienza, è stato fatto un lavoro molto capillare nel consegnare a loro e alle famiglie delle brochure che fossero indicative di tutte le procedure da seguire in questa situazione.